Ci parli un po' del progetto Filippide? Il progetto Filippide è un programma sportivo per soggetti dello spettro autistico. Ovviamente è un'associazione sportiva, benemerita il Comitato Paralimpico, gente di Stato e membro collettivo dell'Accademia Olimpica. Siamo diffusi su tutta Italia con circa una ventina di associazioni e quest'anno in particolare abbiamo due grandissimi eventi. Vincitori di un bando europeo Erasmus Plus e quindi in buona sostanza l'Unione Europea ci ha dato mandato per sviluppare il progetto in oltre 20 nazioni europee che confluiranno a Roma dall'8 al 10 settembre per la parte finale di questa progettualità e dal 13 al 16 giugno saremo al quartier generale delle Nazioni Unite per presentare le attività del progetto alla decima conferenza mondiale sui diritti delle persone con disabilità. Quindi un progetto che sta abbarcando i confini nazionali e provando a portare la propria esperienza anche oltre i confini. Insomma, siamo considerati delle eccellenze italiane ma diciamo che i ragazzi che oggi stanno ancora a casa rispetto a quelli che frequentano sono ancora la maggioranza. Quindi il nostro compito è un po' quello di tentare di farli uscire da casa e farli vivere una giornata come questa in un panorama meraviglioso. Quali sono le attività che avete portato avanti in questa giornata nello specifico? Allora, oggi noi siamo presenti con una squadra il che significa 12 ragazzi, tutti con patologia autistica che percorrono la loro mezz'ora di corsa con a fianco ciascuno di loro, almeno un operatore in alcuni casi due perché la situazione lo richiede e quindi è un impegno associativo estremamente forte. domani ci saranno altre gare perché diciamo l'approccio all'attività sportiva avviene con i bambini, quindi i ragazzi in età pediatrica attraverso il nuoto e abbiamo 45 bambini che praticano queste attività dai 2 ai 12 anni mentre qui oggi sono presenti tutti gli adulti e in più abbiamo un'attività, un'icona della nostra associazione è il nuoto sincronizzato proposto a ragazze con la sindrome di Down atlete con la sindrome di Down che sono campionesse mondiali titolo conquistato lo scorso anno a Firenze ai Trisomina Game, veri e propri olimpiadi per la sindrome di Down quindi siamo impegnati su più fronti e è un lavoro piuttosto impegnativo visto che è considerato la diversità siamo un po' come una polisportiva Una domanda, che cosa ne pensa del concetto quindi dello sport come strumento per contrastare la violenza? Ma noi cerchiamo di dare il nostro contributo quello che mi pare rilevante in una giornata come oggi è questa noi abbiamo ragazzi, adesso sta correndo fra i tanti che corrono all'interno del campo un nostro ragazzo molto serio che non si riconosce e tutti gli altri non lo riconoscono è un atleta che può correre più piano o più veloce però è una testimonianza forte di come lo sport è forse il mezzo preferito non il migliore, però sicuramente quello preferito per poter certificare con estrema chiarezza che si può inserire qualunque tipo di disabilità e quindi non essere soltanto a parole contro la violenza ma un'integrazione di qualunque tipo anche per coloro che sono definiti molto gravi quindi posso solo immaginare altre tipologie di persone di esseri umani in altre situazioni di difficoltà e questo ci rende anche orgogliosi di essere qua come gli altri, né di meno né di più ma semplicemente come gli altri Che impatto ha questo genere di giornate, di iniziative sulle famiglie e poi di chi ha una disabilità? Esatto, la risposta è proprio quella delle famiglie oggi le famiglie sono impegnate per un pomeriggio che diversamente devono spendere o nell'organizzarsi o nel stare i ragazzi a casa i nostri ragazzi nel migliore dei casi guardano un muro e dondolano davanti a un oggetto cioè non hanno molte altre attività stare all'aria aperta in un campo a praticare sport credo che sia una risposta straordinaria di quello che ci viene proposto e anche come accoglienza perché noi siamo accolti da questa organizzazione in particolare da Nicola Visconti proprio perché hanno un profondo senso di integrazione e di accoglienza nei confronti dell'altro Grazie mille